Si parla di un rimpasto in giunta, di malori nella giunta, ma realmente che cosa ci sta? Lei aveva un impegno pre-elettorale di modificare i nomi degli assessori dopo un certo periodo di tempo oppure no? Ho tanti di quegli impegni con la mia giunta, con la mia amministrazione e con la mia coalizione che i cittadini neanche se ne immaginano. Ovvero, ed era ironico il mio intervento, sanno tutti che io ho sempre proclamato che la verifica di giunta sarà fatta da 12 a 18 mesi dopo il mio insediamento. E questo è l'impegno che voglio mantenere. Io sostengo una cosa e la dico con molta forza. Al di là di alcune discussioni, tra virgolette, fatte tra i miei amici consiglieri, tra i miei amici assessori, ma tra i miei amici cittadini, voglio dire coinvolti nella politica, è normale che qualche volta si usa anche qualche tono alto per discutere o verificare alcune questioni anche politiche. Però non è questa la mia preoccupazione. La cosa bella è che si discute, si discute anche con toni forti, però poi andiamo tutti mirando allo stesso obiettivo e riusciamo a risolvere problematiche che la gente neanche si immagina. Al di là di quello che può dire la minoranza o di quello che compare sulla carta stampata, la mia giunta gode di ottima salute. E questa è la cosa che mi preme sottolineare. Noi stiamo andando avanti con poco, ma stiamo facendo delle ottime cose. Secondo me, se ci danno il tempo, questa giunta, questa amministrazione, questo consiglio comunale darà delle soddisfazioni alla città di Aversa e soprattutto manterrà gli impegni assunti con gli elettori. Io ne sono convinto, ne sono certo e sono convintissimo che tutti si stanno lavorando e remando nella stessa direzione. Quindi praticamente se ci sarà eventualmente qualche cambiamento sarà dopo un anno e mezzo. Dopo un anno, un anno e mezzo faremo la verifica. Questo è il mio impegno. Poi se qualche consigliere, qualche assessore ha delle difficoltà oggettive per quanto riguarda il proprio impegno dovesse farsi da parte, quello è altro discorso. Ma non è questo che mi interessa in questo momento. Garantisco che dagli incontri che sto avendo con la mia giunta, con i capigruppo, ma soprattutto con tutti i consiglieri non c'è assolutamente nessun mal di pancia. Sono dibattiti politici normali e anche straordinari. straordinari perché dopo le discussioni anche animate si arriva tutti a soluzioni condivise. Questa è la bellezza di questa mia coalizione.